In tutto sono circa 300 gli autisti ATM che mancano su autobus e tram e che garantirebbero così il regolare servizio in città. Una carenza che ha costretto l'azienda del trasporto pubblico milanese a chiudere diverse linee, 31 per la precisione. Una mossa, secondo l'azienda di Foro Bonaparte, necessaria per venire incontro alle tante proteste dei cittadini che nell'ultimo periodo hanno dovuto affrontare disagi come soppressioni e attese più lunghe alle fermate, impossibile infatti garantire la puntualità se manca del personale. Così ATM ha deciso di intervenire sulle corse, in particolare su quelle linee che difficilmente riuscivano a contenere i disagi. Sulle più problematiche il piano previsto da ATM è stato quello non della soppressione ma della rimodulazione dell'orario dilatando le frequenze dei mezzi così che autobus e tram più facilmente riusciranno a rispettare l'orario e i cittadini non dovranno più fare i conti con ritardi inaspettati. Già dai primi di novembre le modifiche erano entrate in funzione per sette linee, ogni settimana poi sono state ritoccate le frequenze in tutto di 19 tratte tra autobus e tram e il prossimo lunedì toccherà alle ultime cinque linee. Una soluzione che ATM vede solo come momentanea, la speranza infatti, è quella di ripristinare nel breve periodo i vecchi orari, grazie anche a nuove iniziative volte all'assunzione dei 300 conducenti mancanti.